Musica Mattinata, continuano le indagini per trovare gli assassini del muratore ucciso da 9 colpi di fucile e pistola. 10 persone interrogate nella notte di ieri tra stube e seguiti per tutta la notte i carabinieri del comando provinciale di Foggia insieme ai colleghi della stazione di mattinata hanno ascoltato amici e parenti di Bartolomeo Biceglia il muratore 57 anni ucciso alle 18 di domenica in località Mattinatelle nelle campagne tra Mattinata e Vieste. Sull'accaduto in stile mafioso restano aperte tutte le possibili piste investigative mentre emergono indicazioni più precise sulle modalità dell'esecuzione. Biceglia è stato ucciso con 9 colpi di fucile calibro 12 e una pistola calibro 9 che lo hanno attinto alla testa e al torace. Due colpi fatali. Durante la notte i carabinieri hanno sottoposto tre persone allo stub, l'esame che serve a verificare la presenza di polvere da sparo sulla pelle e sugli abiti. Secondo quanto ricostituo dei militari, anche grazie alla testimonianza chiave del cugino della vittima, un quarantenne incensurato che era in auto con Biceglia, l'auto non sarebbe stata affiancata da un altro mezzo ma sarebbe stata sorpresa da una pioggia di proiettili esplosi all'uscita di una curva da tre persone incappucciate e armate di pistole e fucili nascoste dietro un cespuglio sul ciglio della strada. Una versione dei fatti al vaglio dei militari incaricati delle indagini del caso coordinate dal magistrato della procura di Foggia, Iliana Ramondo. L'aguato è avvenuto in località Mattinatella lungo una strada interpoderale a circa un chilometro dalla provinciale 53. Ancora un tragico incidente sulla strada statale 89. Lo schianto mortale è avvenuto al chilometro 179 dopo il bivio per San Giovanni Rotondo. Lì, in località Santa Lucia, una Chevrolet Spark Blue ha perso il controllo, sbandando e invadendo la careggiata nel senso di marcia opposto. Fatale l'imparto con un tir che viaggiava in direzione Foggia, l'auto articolato ha schiacciato l'auto contro il guardrail. Il bilancio è di un morto accertato, si tratta di Antonio Fusillo. E non si esclude che all'interno del veicolo potessero esserci altre persone. Sono tuttora in corso le operazioni di recupero del corpo della vittima dalle lamiere dell'auto che si è drammaticamente accartorciata. Sul posto, oltre alla polstrada e al 118, i vigili del fuoco che stanno procedendo alla rimozione dei veicoli dalla careggiata. Manfredonia rinvenuti, fucile e un carico di cocaina. La squadra volante di Manfredonia ha rinvenuto nei pressi di un podere alla periferia sud della città, un fucile a canne mozze con matricola brasa carica di pallettoni, un sacchetto con all'interno 10 confezioni di cocaina purissima del peso complessivo di 13 kg del valore di circa 900.000 euro che messa sul mercato dopo essere stata tagliata avrebbe più che quadruplicato il proprio valore. Poco prima del rinvenimento dell'arma, una volante aveva notato alla periferia di Manfredonia un'auto di grossa cilindrata uscire da una strada interpoderale che a velocità sostenuta si metteva sulla strada principale. Nella stradina, gli agenti hanno notato anche una persona che tentava di nascondersi. Alla vista degli agenti, l'uomo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Nel punto in cui cercava di nascondersi, la polizia è rinvenuto il fucile. Sono in corso serrate indagini per identificare i responsabili dell'occultamento dell'arma e del carico di stupefacenti. Prologa per le stanze di forniture di libri di testo Alcune famiglie ancora represe con i giustificativi di spesa, la scadenza per le stanze relativi ai libri di testo fissata alla data del 15 settembre, ora invece è stata prorogata fino al 30 settembre prossimo. La Regione Puglia aveva indicato il 30 agosto scorso come termine ultimo per la presentazione di stanze per i libri di testo per gli studenti della scuola di secondaria di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente e non superiore a 10.632 euro relativo all'anno 2013. Il Comune di Manfredoni aveva preferito invece allungare i tempi al due settimane in più. Ora invece c'è un nuovo sdrettamento, infatti la scadenza per presentare la documentazione necessaria direttamente alle scuole era stata fissata in data di ieri del 15 settembre ma preso atto delle difficoltà submenzionate, l'assessore all'istruzione Varrecchia ha comunicato ai dirigenti delle scuole secondarie Sipuntine di primo e secondo grado che la data di presentazione delle domande è prorogata fino al 30 settembre prossimo per consentire alle famiglie di consegnare i giustificativi di spesa da allegare alla domanda. Una gradita boccata d'aria in queste ulteriori due settimane a disposizione di genitori e studenti monfroniani per provvedere all'acquisto dei libri di testo, documentarlo con fatture e scontrini e consegnare tutto alle scuole.